Musica Abbiamo voluto dare un segnale forte con la presenza di un'isola ecologica, di un presidio informativo per informare la gente, formarla a differenziare meglio. L'isola ecologica appunto per dare un servizio evitando che i cittadini di passaggio usino queste aree come discariche facendo un torto ai residenti di queste zone. Ma oggi un'attenzione particolare in più. Abbiamo appena ultimato la consegna dei kit per differenziare ai cittadini di Contrada Settefarini. Oggi si inizierà dal centro storico e contemporaneamente e personalmente consegneremo assieme ai dipendenti della Tecra i kit dei sacchetti al Porta a Porta Contrada Scavone e quartiere Santa Lucia. Lo faremo in presenza di colui che si è definito cittadino tra i cittadini, il segretario locale della CGL, l'amico Ignazio Giudice, che abbiamo voluto invitare perché è particolarmente ipercritico nei confronti dell'amministrazione e di questo nuovo calendario che serve a facilitare il cittadino nel differenziare, proprio per dargli dimostrazione di come la Tecra e l'amministrazione si stanno impegnando per fare in modo che tutti i cittadini siano messi nelle condizioni di poter operare. Già ieri era stato invitato presso il centro comunale di raccolta, è stato mostrato tutto il materiale che è arrivato bello imballato, quindi il kit con i sacchetti, il secchiello per il vetro, non perché lui sia presente in qualità ispettiva, ma semplicemente appunto perché è ipercritico nei confronti di questo radicale cambiamento nel sistema di gestione per dare dimostrazione a tutti i cittadini che l'amministrazione si sta impegnando, non vuole vessare nessuno, vuole mettere tutti in condizione di differenziare e lo vuole fare al meglio. Nativa di Caltagilone, consacrata da quasi 30 anni, lascerà subito dopo Ferragosto Gela per trasferirsi a Catania, lei è Suorenza Boscarello, direttrice dell'Istituto Suor Teresa Valse di Macchitella, è già stata nelle comunità di Cesarò, Roma, Cireale, Biancavilla e Modica, adesso una nuova esperienza dopo 8 anni vissuti intensamente tra noi. È stata insegnante nella scuola primaria e responsabile della catechesi in preparazione ai sacramenti dell'Eucharistia e della confermazione dell'oratorio e della polisportiva. Posso dire di aver dato tutto quello che mi è stato possibile senza ritirare niente di me, senza pensare a un attimo di riposo o di qualcosa che naturalmente potesse pensare a me stessa. Io, poiché credo molto nella mia scelta, nel dono di me, ho cercato di far tesoro di tutti i momenti, di tutte le luci che il Signore mi ha dato perché il nostro servizio, la nostra presenza potesse essere luce, potesse essere forza, potesse essere indicazione per i giovani e le famiglie. Il posto di Suorenza sarà preso da Suor Concetta Cannone, sociologa, già Presidente regionale del Centro di Formazione Professionale e dell'Obbligo di Istruzione per la Regione Sicilia. Si tratta di una donna semplice, determinata, coerente e disponibile al dialogo e al confronto. Facendo un passo indietro, dunque andando indietro di otto anni, cosa è cambiato da allora ad oggi? Sono arrivata, ecco che ero già stata a Gela e quindi ho notato subito che il territorio gelese non era quello di vent'anni fa quando l'avevo lasciato io. E allora questo mi ha spinto a far sì che questa fosse una casa aperta, che tutti coloro che entrassero, che avessero desiderio, insomma, bisogno di una parola, di un'attenzione, di un affetto, ecco questo non l'ho fatto mancare. E come dicevo prima, ecco il desiderio, l'intenzione, l'impegno, ecco perché ci fosse una crescita totale. Credo che i risultati, di risultati possiamo parlare perché non parliamo di questo, non penso assolutamente a questo, però si vedrà dopo. Un quadro si vede sempre da lontano, così io vedrò in me, ecco voi lo vedrete nel territorio, io vedrò in me, ecco la bellezza, la bontà di questa esperienza un poco a distanza. E cosa lascia lei a Gela? Un pezzo di cuore perché noi sappiamo che la nostra è una parentesi che si apre e si chiude, così ha voluto Don Bosco, così è scritto non solo nelle nostre costituzioni ma anche nel diritto canonico. Per lavorare, io dico bene nel senso che ho messo tutta me stessa, in questo senso non ho la pretesa di dire che ho fatto bene, no. Per lavorare ecco ho messo tutta me stessa e quindi bisogna naturalmente anche affettivamente, ecco non legarsi ma ecco lavorare con affetto, lavorare anche con il cuore, non solo con la mente e questo io l'ho fatto, per cui certo lascio forse un pezzo di cuore, mi porto un pezzo di cuore, ma questa è la bellezza della vita. Si chiama Summer Asia Export, un'iniziativa che si terrà dal lunedì 22 agosto a sabato 27 a Gela, 5 giorni intensi che vedranno la partecipazione di numerosi sportivi. Sono nuove le associazioni che hanno aderito, tra cui la Gymnastic Lab di Walter Miciche e la Decathlon. Si punterà alla valorizzazione dello sport a 360 gradi. È una grande esposizione sportiva dove le associazioni sportive direttandistiche mostrano se stesse, le proprie attività e gli atleti plurimedagliati che hanno meritamente fatto grandi successi all'interno del 2016. Tant'è vero che all'interno di questa manifestazione andremo proprio a consegnare loro degli attestati anche di merito. Questa manifestazione è anche un messaggio molto forte che vogliamo dare alla città di Gela e non solo, a tutto il territorio siciliano. Un messaggio di unione. Tant'è vero che le associazioni di propria spontanea volontà si sono unite tra di loro, nonostante siano categorie diverse tra di loro, tipologie diverse, ma si sono unite per un unico obiettivo, ovvero quello che è il motto che abbiamo utilizzato è Uniti per lo Sport, perché tramite lo sport possiamo dare i giusti messaggi ai nostri giovani e soprattutto a questi giovani che potranno diventare degli adulti sani. Ringraziamo questa bellissima iniziativa dove vedrà una settimana di sport, dove tutte le associazioni sportive gelesi e non solo si uniranno. Questo dà la possibilità ai bagnanti e a tutti i presenti di poter provare le varie specialità sportive, quindi un'ottima occasione per avvicinarsi al proprio sport. Ci siamo ugualizzati per poter portare lo sport vero nei lidi, in pubblico, in modo tale che più gente possibile possa conoscere l'attività fisica. Devo dire che dopo tanti anni io qui vedo già un grande cambiamento, gente che nel proprio DNA ha l'attività motoria e l'attività fisica dentro, quindi vedo correre gente a lungo mare, vedo fare fitness, vedo fare tante cose che non vedevo dieci anni fa. Peccato che non ci si accorga di queste cose e che nessuno prenda la palla in balzo per poter in qualche modo aiutare questa gente che vuole di per sé fare attività sportiva e rendergli le cose un po' più agevoli e un po' più comode. Noi della Snupio, assieme a tutti quelli che stiamo partecipando, generalmente siamo quelli che aderiamo un po' a tutte le iniziative. Devo fare un complimento a Salvatore Spinello che in rappresentanza dell'Asia ha organizzato questa bella manifestazione nella quale certamente i cittadini in questo momento, diciamo coloro che frequentano i lidi della nostra città usufruiranno gratuitamente di un servizio che altrettanto gratuitamente le associazioni sportive stanno dando. Per noi è un modo per portare all'esterno delle palestre le nostre attività e per farle conoscere, per i cittadini ingelesi sarà magari un modo di avvicinarsi allo sport. Noi ci proponiamo di attivare il Pony Games, sono dei giochi con i poni attraverso i quali appunto i bambini riescono ad avvicinarsi al mondo dell'equitazione. Cercheremo di coinvolgere anche gli adulti con dei premi e anche dei pacchetti promozionali per quanto riguarda l'equitazione. Speriamo che sarete molti. Questa amministrazione è confusa e improvvisata, il nostro è un giudizio negativo, continueremo a rimanere all'opposizione. Lo sostiene il Partito Democratico che nel pieno della sua riorganizzazione torna nel cuore dell'estate a prendere le distanze dalla giunta mersinese e dice che sarà il primo partito in consiglio comunale a proporre la mozione di sfiducia per mandare a casa il primo cittadino e i suoi seguaci. Annuncia inoltre di voler andare nella primavera del 2018 al voto anticipato e accusa i 5 Stelle di avere provocato lo sfascio della città. Un'amministrazione che si era presentata all'insegna del cambiamento e che avversava e contestava con un sistema di gestione della cosa pubblica delle passate amministrazioni, questa amministrazione non solo ha ripristinato quel sistema di gestione di potere ma lo sta alimentando. Lo dico per asquanto di equivici non siamo assolutamente interessati a nessun ingresso in giunta e vogliamo spegnere le polemiche e chi sta cercando di strumentalizzare queste voci politiche. Non siamo noi i responsabili di questo disastro, ha detto il segretario Peppe Di Cristina. I 5 Stelle dovrebbero scusarsi con la città mentre il PD continua a cercare l'unità perché grazie anche alla luce della riforma elettorale appena votata dall'Assemblea regionale siciliana il partito di Renzi sostiene di avere a Gela tutte le carte in regola per poter ritornare a governare la città. Il PD da sei mesi è assolutamente centrale nell'attività politica della città, lo abbiamo dimostrato prendendo in pieno e con responsabilità l'appello fatto al segretario nazionale nella raccolta delle firme, nella costituzione dei comitati, nell'organizzazione del partito, nella rifondazione dei giovani democratici. Lo dimostriamo insieme al gruppo facendo un'opposizione seria, intransigente e coerente a questa amministrazione. Ma nel frattempo ci sono delle problematiche da affrontare. Le emergenze importanti sono due, uno intanto il porto, l'avete sentito, è la notizia del giorno, resta l'ultima fase. L'ultima fase consiste nella firma del protocollo di intesa tra il Presidente della Regione, il Sindaco e l'Eni in cui si mettono materialmente i soldi all'ingegnere Foto, il capo della protezione del civile. Da lì si avvieranno tutte le fasi che porteranno al dragaggio del porto di meno 4 metri e all'allungamento del braccio di sottoflutto di 120 metri e risolverà il qui e ora del porto. Poi ci sarà il grande porto ed è un'altra cosa. Seconda questione, noi abbiamo la necessità immediata, siccome non ha piovuto, acqua non ce ne ne le diga. Com'è che risolviamo il problema? Noi abbiamo due opzioni. Una che abbiamo lanciato noi e che ha ripreso l'amministrazione è l'acqua online, cioè l'acqua del depuratore che viene utilizzata per irrigare i cambi. C'è già il progetto di massima, bisogna trovare i soldi, dopodiché intervenire per avere l'acqua del ragoleto per uso irrigua. Queste sono le due emergenze di cui ci dobbiamo occupare immediatamente. La sfiducia nei confronti del sindaco domenico messinese e un ritorno alle urne potrebbe essere appetibile ad entrambi i schieramenti centrodestra e centrosinistra anche in virtù della nuova legge elettorale che è stata decisa a Lars, senza considerare il Movimento 5 Stelle che ha preso le distanze da messinese dopo appena sei mesi. Per cui è meglio che il primo cittadino si apre al confronto e governi con chi mostra trasparenza. Lo dice Filippo Guzzardi, portavoce di area civica Gelesi in Movimento. Fra dieci mesi termina il periodo di due anni in cui il sindaco non può essere sfiduciato. Con l'approvazione recente delle modifiche alla disciplina elettorale siciliana a Lars, hanno pensato di reintrodurre l'effetto trascinamento delle liste. Il voto alla lista va automaticamente al candidato sindaco, favorendo le coalizioni e penalizzando le singole liste che non si coalizzano. Inoltre, il candidato a sindaco può essere eletto al primo turno se oltrepassa la soglia del 40% dei voti validi, non più il 50%, più uno. E alla coalizione o lista che lo ha sostenuto scatta un premio di maggioranza fino al 60%. Guzzardi sottolinea che è giunto il momento che il sindaco di questa città rompa gli indugi e dica ai suoi concittadini come e con chi vuole continuare a governare Gela e i suoi tanti problemi che l'affliggono quotidianamente. Il primo cittadino vuole reterare la gestione comunale di questi 14 mesi? È contento e soddisfatto di quanto fatto finora? Lo spiega i gelesi e prove a dimostrarlo con argomentazioni serie e convincenti perché la situazione in città rimarca guzzardi e drammatica e nel frattempo sul piano legislativo sono intervenute alcune novità. Per quanto ci riguarda è evidente che con i suoi fedelissimi che gli sono rimasti accanto, Messinese non ce la faccia. Nessuno mette in dubbio l'impegno profuso dal primo cittadino, dagli assessori e dai suoi collaboratori a vario titolo, ma non è sufficiente e i risultati parlano da soli. La linea di continuità con la precedente amministrazione, senza rappresentare peraltro un'evoluzione in senso migliorativo, è sotto gli occhi di tutti, specie in quelle fondamentali e sensibili problematiche in cui la sua elezione avrebbe dovuto rappresentare un dirompente elemento di rottura. Ci riferiamo, dice Guzzardi, alle questioni della riconversione industriale e occupazionale, l'erogazione del servizio idrico, lo smaltimento dei rifiuti soliti urbani, la portualità, il PRG, la tassazione e con essa delle tasche sempre più vuote dei gelesi. Per Guzzardi, Messinese ed il suo staffo non possono più navigare a vista in attesa di capire se e chi dei 30 che siedono in consiglio comunale avrà il coraggio o meno di rinunciare alla poltroncina per mandare tutti a casa ridando parola al cittadino sovrano all'interno delle cabine elettorali. Il sindaco chiude Guzzardi, elabori e sottoponga un progetto a chi volesse eventualmente condividerlo non sotto banco, come in tanti già sospettano, ma alla luce del sole, provando a dare una sterzata a questo stato di inerzia in cui questa città è costretta ad anni nel continuo rincorrere senza mai risolvere vecchie e nuove emergenze. Iniziano i lavori qui allo stadio Vincenzo Presti, lavori che al momento riguarderanno l'impianto elettrico e altre piccole cosette. Il grosso del manterboso si farà tra una settimana dopo ferragosto. L'intervento è più ampio, prevede anche la zona per gli addetti alla stampa, l'impianto di amplificazione, l'intervento più grosso come è stato detto riguardo il manterboso, ma l'obiettivo è quello di arrivare ai primi di settembre con tutti gli interventi richiesti dalla Lega per consentire al Gela di giocare in Serie D che siano completamente eseguiti e consentire quindi di avviare le partite in campo. In realtà abbiamo fatto un'analisi più ampia del Presti dove ci saranno una serie di miglioramenti che riguardano un po' tutto il campo, ma questi li andremo a fare in un secondo tempo. Ora la cosa importante è quella di adempiere a tutto quello che è stato richiesto dalla Lega per avere l'omologazione del campo. Qualche settimana fa avete diffuso un comunicato stampa congiunto con la società bianca-azzurra per quanto riguarda l'affidamento dello stadio al Gela Calcio. A che punto è l'iter per affidare la gestione? Io credo che la cosa più importante è quella di completare tutte le opere e far omologare il campo per la Serie D che è l'obiettivo primario. La gestione del campo credo che sia un obiettivo secondario che comunque serve per poter far giocare il Gela a Gela e di lasciare il campo in una condizione decorosa ed evitare situazioni che negli altri anni si è verificata invece di trovare il campo sporco e non ben manutenzionato. Infatti quando parliamo di interventi costanti sul Presti è che in tutto il 2016 in realtà ci saranno tutta una serie di interventi a seguire proprio per togliere tutta una serie di criticità che abbiamo trovato e che anche se non ci è stato richiesto vogliamo farlo perché lo dobbiamo ai tifosi e lo dobbiamo alla città. Abbiamo già intrapreso alcune iniziative già dalla fine del campionato con l'intervento della Lega che è venuta a fare un sopralluogo per verificare quali erano i lavori urgenti e indifferibili da effettuare. Abbiamo già preso contatti con la ditta che appunto sistemerà il manto erboso, stiamo aspettando gli aspettamenti burocratici per poter poi giustamente affidare secondo la norma di legge eventualmente il lavoro e l'intervento da effettuare. Per il resto siamo già iniziati tra qualche giorno con l'impianto elettrico e per la messa in sicurezza di alcune situazioni e con le tribune stampa. Attendono ancora i buoni pasti circa 260 dipendenti dell'ex provincia di Caltanissetta, oggi libero consorzio comunale, che prestano servizio su cinque giorni con un rientro pomeridiano. Ogni dipendenti infatti vanta una somma pari a circa 450 euro. Stanchi di non ricevere risposte dall'ente, 30 di questi lavoratori si sono rivolti al segretario generale della funzione pubblica della CISL, Gianfranco Di Maria, che ha così mandato un atto di diffide e messo in mora al commissario straordinario Rosalba Panvini. Noi vogliamo riconosciuto e dando un diritto. Questi buoni pasto sono in credito da quasi due anni. Abbiamo aspettato fino ad oggi perché ci siamo resi conto che l'Ende non aveva le risorse. Invece abbiamo deciso di fare l'atto di diffida con l'ufficio vertenza della CISL, quindi con l'avvocato in baglione, perché in una riunione sindacale la dirigenza, uno dei dirigenti, ci ha detto che questi soldi li avevamo persi, li avevamo persi come personale. E a noi sembra assolutamente ingiusto perché il personale in servizio già ha avuto ridotto i giorni di rientro per i quali c'è il buono pasto e soprattutto per i quali si dà un servizio. Noi eravamo già contrari a ridurre da due a uno il giorno di rientro, torno a dire perché di pomeriggio riteniamo che gli uffici possano essere più a disposizione del cittadino. Il cittadino quando c'è il lavoro di mattina lavora, quando non c'è il lavoro è inutile che va alla provincia, se non per l'assistenza ai portatori di handicap. Quindi c'è un solo rientro pomeridiano, per quel rientro il dipendente ha diritto al buono pasto, che non gli viene corrisposto, è un problema di carattere economico, ma se gli si nega il diritto diventa un problema di carattere sindacale e di riconoscere quello che è una giusta ricombenza per la pausa pranzo. Parliamo di 7 euro a buono pasto, non stiamo parlando di 70 euro un pranzo completo, con 7 euro è possibile fare uno spuntino. Ingegnere, ma qual è la finalità vera e propria della situazione? Noi genitori dei ragazzi e dei bambini con autismo mettiamo il cuore nel mettere in risalto e in luce le problematiche purtroppo ancora non risolte presenti nel nostro territorio, nella nostra città, relativamente alle persone portatrici di questa sindrome. Ci sentiamo in questo momento, come dire, abbastanza delusi dell'assenza nel territorio, di ciò che traduca le linee guida regionali in una realtà concreta di assistenza e di sostegno per i ragazzi e i bambini disabili e per le loro famiglie. Ci riferiamo soprattutto ai centri diurni? Ci riferiamo in particolare ai centri diurni. Amautismo ci mette il cuore nel portare avanti determinati obiettivi, che sostanzialmente sono quelli di creare una rete fra i genitori che consenta di avere consapevolezza e di accedere subito alla diagnosi e alle terapie, di avere sostegno reciproco e di darlo anche a quelli che al momento non sono iscritti ma che sicuramente parteciperanno dopo e quindi creare, sostenere, promuovere la creazione di strutture adeguate, professionalmente valide, che possano accogliere i ragazzi con autismo, particolarmente nell'età post-scolare, nel momento in cui non esiste appunto la guarigione ma esiste la necessità di dare concretezza, di dare spazi, di dare significato alle persone affette da autismo che hanno necessità quindi di avere una loro realizzazione, un loro punto di aggregazione, di avere degli impegni che vanno realizzati in ora e che la famiglia da sola non potrebbe sostenere. Cosa vi ha lasciato il Blue Day e cosa vi ha insegnato Samuele, il ragazzo autistico che è riuscito a diplomarsi? Per noi il Blue Day dura 365 giorni l'anno, il fatto che ci siamo incontrati e conosciuti ha fatto sì che ci mettessimo insieme, ne discutessimo, traducessimo quelle che erano le problematiche in obiettivi, in quello che gli inglesi chiamano una mission, cioè una serie di punti che intendiamo portare avanti, uno dei quali gliel'ho detto la rete, un altro è quello del rapporto con le istituzioni per accendere i fari a questo punto su tutte quelle che sono le carenze presenti nel territorio, chiedere un dialogo, fare progetti comuni sia con le istituzioni che con le altre associazioni che vorranno farlo, in primo luogo quindi promuovere tutto quanto può portare concretamente a realizzare quei centri, quei punti di aggregazione e a soddisfare quelle necessità che attualmente sono disattese. Per noi Samuele è stato un momento di grande gioia perché ha acceso ancora di più i riflettori su questa problematica, oltre a rappresentare un momento di gioia fra amici da condividere. Ha posto determinate domande, ha accentrato l'attenzione su questa problematica anche con tutte le considerazioni che possono essere tratte a latere, ma sostanzialmente ha posto un problema. Abbiamo dei cittadini di Serie A come tutti gli altri, che hanno dei diritti, che vanno rispettati, che la legge già prevede, che semplicemente non sono stati realizzati. Noi con Amautismo ci mettiamo il cuore nel far sì che questa accensione di luci, questo illuminare i problemi, non si traduca in un pietismo, ma si traduca in una realizzazione di quanto ancora non è stato fatto, particolarmente in una realtà trascurata come Gela. Anche a Manfria le docce pubbliche sono arrivate, sono state installate oggi grazie alla collaborazione di Vino Acquedotti che ci ha dato un punto di fornitura d'acqua, 24 ore su 24 acqua corrente, dove il comune ha installato un addoccio uguale a quelle che sono state installate lungo tutta l'arenile che va da Machitella fino al fiume Gela. Quindi finalmente a Manfria la prima volta ci sono le docce pubbliche, finalmente a Manfria c'è l'acqua finalmente, è una cosa da sottolineare. Questo è un altro piccolo passo avanti, anzi importante passo avanti per poter migliorare la visibilità delle nostre spiagge. Un intervento importante per il turismo, abbiamo installato l'ottava doccia anche a Manfria e dopo quelle che abbiamo installato a Luncomare e a Gela. Un altro tassello importante, oltre a quello delle pedane, per rendere ai meno fortunati o ai diversamenti abili l'accesso alle spiagge. Un apprezzamento particolare volevo farlo anche ai privati che ci hanno anche sostenuto come la Divina Acquedotti che ci ha aiutato anche con l'installazione di una delle numerose passarelle che abbiamo installato. Autore dei sottolinei Autore dei sottolinei Autore dei sottolinei Grazie.